Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria con un video in cui torneremo a parlare di questo volume che oramai conoscete fin troppo bene. Diciamo che questo video concluderà questa serie con le considerazioni finali lasciate da Ceva e Kurami a conclusione della loro opera, della loro analisi, un'analisi che come ho detto appare seria, molto seria, molto curata, documentatissima, c'è un altro volume come questo di circa 500 pagine solo di documentazione e come dire analizzano, ripeto, smontano pezzo per pezzo ogni fatto riguardante la motorizzazione del reggio esercito nei tumultuosi anni che vanno fino al 1943. Abbiamo chiuso il video precedente con una dichiarazione di Roatta nella quale si puntava il dito verso gli accordi di cartello tra Ansaldo e Fiat per la fornitura di motori, ma Zanussi, il generale Giacomo Zanussi, nelle pagine del suo Guerra e Catastrofi, conferma la narrazione di Roatta, di cui era diretto collaboratore, ma soprattutto allarga il discorso. Ci dice Zanussi che, ma se la Germania ha maggiori colpe in ciò, ovvero sia riguardo alla scarsa collaborazione tecnica e tecnologica fra alleati, non piccola colpa abbiamo pure noi. Ne ha quell'egregia ed entusiasta persona che il generale Depigné, già che ritengo che nemmeno uno delle centinaia di tipi di carri armati ed altri automezzi che gli escogitò, o esaminò, o fece costruire durante i tre anni in cui resse il suo ispettorato, si è entrato in servizio. A. Pacifico che il buon volere non c'entra, perché ho conosciuto poche persone al mondo animate come lui dal desiderio di benfare, vulcanico di idee, fertile introvate, inesauribile di attività, soltanto che il suo ininterrotto girare finiva il più delle volte col convertirsi nient'altro che in un girare a vuoto. Per quanto al suo fianco non mancassero collaboratori di grande valore, tra i quali, mi piace ricordare il generale Traniello, indiscutibilmente competente e di provatissima serietà. È colpa anche dei tecnici delle nostre grandi aziende industriali, Ansaldo, Fiat, Breda, eccetera, i quali, pur avendo sott'occhio campioni di carri tedeschi e inglesi che avevano vantaggiosamente superato la prova del fuoco sui campi di battaglia eppure essendo consci delle irrimediabili deficienze dei tipi da noi prodotti, non riuscirono mai in tre lunghi anni a fare o a quanto meno a proporre qualcosa di più decente. Se ci pensate a definire decente il sahariano o decente il P2640, di coraggio ce ne vuole. Zanussi continua dicendo che mi si è accennato che ciò dipendeva per gran parte da rivalità tra l'uno e l'altro gruppo industriale, ansiosi di farsi reciprocamente, come si suol dire, la forca e di intascare ai danni dello Stato quanti più quattrini potevano. Fino a che lo dico io, vabbè, ci può anche stare, ma qua lo dice un generale del regio esercito, lo dice un uomo dello staff di Roatta. Non senza che in queste losche faccende si citasse il nome di qualche pezzo grosso e persino grossissimo dell'amministrazione militare e civile. Non ho elementi provanti di giudizio a riguardo, ma è certo che se vi fossero e se la realtà consistesse precisamente in quel che si sussurrava nei corridoi dell'ispettorato, le deduzioni che se ne dovrebbero trarre non sarebbero meno sconfortanti. Quindi, ve la ripeto, ciò dipendeva per gran parte la crisi dell'industria meccanica e siderurgica italiana, dipendeva per gran parte da rivalità tra l'uno e l'altro gruppo industriale, ansiosi di farsi reciprocamente, come si suol dire, la forca e di intascare ai danni dello Stato quanti più quattrini potevano. Non senza che in queste losche faccende si citasse il nome di qualche pezzo grosso e persino grossissimo dell'amministrazione civile e militare. Zanussi, ripeto, non fa nomi, Zanussi prudentemente dice che non ci sono le prove, ma io continuo a guardare quella strana busta che spunta dalla tasca della divisa del maresciallo cavallero o il conto corrente di Badoglio. Insomma, parliamone signori. Fra gli stranieri, lo storico britannico Frederick Dickin ha dedicato al problema pochissime righe. Cavallero aveva fatto tentativi di standardizzare la produzione italiana di carri armati su modelli tedeschi, ma si scontrò con l'opposizione degli industriali italiani. Cavallero si guardò bene da opporsi all'opposizione degli industriali italiani. Lo studio di Ceve e Kurami continuano dicendo che il loro studio non si è limitato alla pura ricostruzione del dialogo tra esercito e industria, e fra industria e vertice militare interforza. È vero che, salvo pochi incidentali richiami, si è trascurato il problema dei condizionamenti politici che circoscrivevano l'attività e la responsabilità degli organismi militari. E questo non tanto per la ragione che qualche studio in materia già esiste, quanto perché i documenti che abbiamo consultato non davano significativi contributi in quella direzione che d'altra parte, una volta imboccata, avrebbe determinato un incontenibile allargamento verso temi troppo lontani dal nostro. Cioè, Ceve e Kurami ci dicono semplicemente che la loro vuole essere un'analisi tecnica con il minor possibile riferimento alla politica. Però, come dicono loro stessi, un riferimento alla politica è assolutamente inevitabile, dato che in quel periodo il tipo di politica che si faceva in Italia lo conoscete bene. Tuttavia, sul versante dell'industria bellica, la medesima documentazione permette sguardi più penetranti, tali da intravedere qualche aspetto della sua dinamica interna. Ricordatevi quello che vi ho detto nell'altro video. Gli archivi, i documenti nelle aziende e nell'esercito circola carta, circolano documenti, circolano memorie verbali e quant'altro che sono difficili da distruggere o da nascondere completamente e che alla fine saltano fuori e... ops! come dire... il coniglio nel cilindro. Per cominciare, la voce che ha così lungamente parlato spesso nei capitoli precedenti e soprattutto nell'appendice documentaria, l'altro volume di quest'opera, non è quella dell'industria bellica italiana, ma quasi esclusivamente quella del duo Fiat Ansaldo inoltre affidava le proprie ragioni e pretese alla penna di Agostino Rocca, il mitologico Rocca. La nostra indagine documentaria, ci dicono Ceve Curami, non ha raggiunto né l'annodarsi dell'Allianza Ligure-Piemontese né il momento motivante del suo imporsi come unico interlecutore dell'esercito in tema di veicoli da combattimento ad esclusione di ogni altro concorrente. Ungi le ruote se vuoi che non cigolino. La meravigliosa diplomazia e i meravigliosi equilibrismi verbali di Ceve Curami sono degni di nota. Sono per controvenuti alla luce sia i termini dell'accordo di esclusiva Ansaldo Fiat sia i suoi effetti negativi sulla produzione, aggravati anche dal fatto che essa ormai rifletteva le idee di un solo progettista, ovvero sia l'ingegner Rosini. Sono state documentate la tardiva percezione di tali effetti da parte dell'esercito, nonché il lento, lentissimo maturare del tentativo ministeriale di riaprire il mercato nel 1941. E quindi, oibo, l'intervento dello Stato Maggiore Generale con efficacia impari alla drastica risolutezza dei suoi primi enunciati. Ugo? Ugo? Maresciallo Cavallero? Che ti spunta dalla tasca? Fuori dubbio che gli effetti del soffocamento della concorrenza non vadano né esagerati né sottovalutati. È tuttavia probabile che un certo allargamento del cartello avrebbe giovato, perché ricordatevi sempre una cosa, la concorrenza è vitale nell'industria e soprattutto un nuovo predatore spinge la preda a svegliarsi un po' di più. Selezione naturale. Si pensi ai casi dell'industria automobilistica italiana fra le due guerre. D'accordo che la sua sopravvivenza dipese dalla protezione doganale che sbarrò la strada ai grandi concorrenti esteri. Vedere Ford che voleva installare due stabilimenti qua in Italia, se non ricordo male Trieste e Livorno. Cioè voi ve l'immaginate la fine che avrebbe fatto la Fiat con la Ford qua in Italia? Vabbè. Ma è sicuro che la qualità dei veicoli trasse giovamento dal gareggiare all'interno di numerosi produttori di vetture Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Bianchi, OM e fino a un certo momento Ansaldo e Spa. E di ancora più numerose ditte impiegnate nei mezzi pesanti da lavoro. Le stesse più Isotta Fraschini, Breda, Ceirano ed altro. E già da allora la Fiat, la fabbrica italiana Fiat attraverso le collegate estere Simca e NSU acquisiva posizioni di tutto rispetto sui mercati francesi, tedeschi e balcanici. Non erano che le premesse, nei tempi lunghi e lunghissimi, dell'odierna realtà di un'industria automobilistica nazionale competitiva sui mercati mondiali. Mi si consenta di esprimere qualche piccolo dubbio sulla competitività Fiat all'estero negli anni d'oro, anzi parecchi dubbi. Si era notato che la relativa concorrenza esistente fra industrie aeronautiche, se non aveva dato i risultati che sarebbe stato lecito attendersi, ovvero sia aerei migliori, aveva almeno assicurato un progresso nelle cellule dei caccia, cosicché una volta resi disponibili motori tedeschi originali o riprodotti su licenza, si ebbero macchine da combattimento qualitativamente ineccepibili. Regiane 2001, Macchi 202. Nel capitolo quindicesimo abbiamo documentato l'aspra difesa preventiva, ricordatevi la famosa lettera mandata dall'ansaldo alla Oto, l'aspra difesa preventiva contro ipotetici attentati al monopolio da parte della Oto a capo di un gruppo, cioè Terni, San Giorgio, Alfa Romeo, soggettivamente diverso da quello che mesi prima il ministro della guerra aveva cercato di incoraggiare, ovvero sia Tecnomasio BB, Savigliano, Regiane e Lancia. È una documentazione importante non studiata prima d'ora, siamo nel 1994, ma ci guardiamo bene dal considerare completa ed esaustiva e questo non unicamente per i motivi già visti, carenza rispetto alla fase iniziale. Mancata estensione di controllare gli archivi, indovinate un po' di chi? Dell'esercito? Na 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 na. Fabbrica italiana autarchici trabiccoli che non ha aperto gli archivi, Aceva e Kurami. Va bene, va bene, va bene. Ci sono le esistenze di accenni, come quello sul serio generale Faldella a una vicenda imperniata sul rifiuto di Fiat e Ansaldo di motorizzare il costruendo carro tedesco con un propulsore Lancia e soprattutto nostra convinzione che il cuore del problema sia altrove e riguardi l'intero assetto dell'industria bellica quale si venne configurando negli anni 20 e 30 dopo la prima e decisiva esperienza della Grande Guerra. Come è stato possibile afferrare perfino dallo studio di un settore allora del tutto secondario quale la meccanizzazione? La guerra del 15-18 aveva rappresentato per le industrie la conquista di un mercato in situazione di aspra concorrenza, di lotta senza esclusione di colpi. L'ansaldo dei Perroni si era allora venuta configurando quasi come una branca dello Stato italiano e a tale posizione essa era pervenuta sia per il carattere essenziale del suo principale prodotto, cioè l'artiglieria, sia grazie ai suoi sistemi d'appoggio insinuanti ed assillanti descritti dal generale Zuppelli che aveva ben individuato la tendenza a volersi creare una situazione privilegiata tipo Krupp in Germania, Schneider in Francia e Škoda in Cecoslovacchia. Ora questa vocazione che riferendoci all'ansaldo perroniana avevamo definita di non alterità rispetto al contraente amministrazione militare, dopo le burrasche del primo dopoguerra era andata sempre più estendendosi sino a caratterizzare forse tutt'intera la grande industria ma sicuramente almeno quella bellica. E' noto che tra il 33 e il 34 si verificò la statizzazione IRI, sia delle banche che avevano dovuto assumersi la proprietà di molte industrie per l'impossibilità di coordinare credito industriale e credito ordinario sia delle industrie stesse e del resto, già prima di allora, lo Stato era intervenuto con salvataggi o con sussidi, soprattutto verso alcuni produttori di materiale bellico grandi e piccoli. Già. Già. Non vi era stato bisogno di attendere la svolta dell'IRI perché alcune delle principali industrie interessate anche o in prevalenza al settore bellico e indipendentemente dalle gravi difficoltà in cui quasi tutte avevano versato, magari in tempi diversi, profedessero a una sorta di assicurazione reciproca con accordi riflettenti sia i prezzi da praticarsi sia la suddivisione degli introiti in proporzioni prestabilite fra chi aveva ottenuto commesse e chi non era stato prescelto dall'amministrazione. Queste vicende si collocano al di fuori del nostro tema perché riguardano soprattutto cantieristica e artiglieria. inoltre i relativi svolgimenti sono ancora in corso di studio da parte degli estensori di questo scritto. All'epoca Ceva e Kurami ancora stavano lavorando sopra i documenti d'archivio che avevano trovato. E adesso signori tenetevi forte perché Ceva e Kurami ci scrivono che tuttavia già le poche cose provate, ovvero sia l'accordo Fiat Ansaldo per i carri armati, nonché l'accordo IRI Fiat del 1938 relativo ai grandi motori diesel marini, lasciano intravedere, non nel senso di vedere male, ma solo in quello di non vedere tutto, lasciano intravedere, dicevamo, che la concorrenza era sostanzialmente già esclusa con risultati, fra l'altro, forse non del tutto estranei alle norme del codice penale sulla turbativa degli incanti e degli acquisti della pubblica amministrazione. Articolo 353 del codice penale. E questa ve la ripeto. La concorrenza era sostanzialmente già esclusa con risultato, tra l'altro, forse non del tutto estranei alle norme del codice penale sulla turbativa degli incanti, la turbativa d'asta, e degli acquisti della pubblica amministrazione. La busta dalla tasca di Cavallero. Non parlo di Badoglio perché Badoglio arrivava direttamente lì col baule! E' dunque probabile che il settore carri e veicoli da combattimento, la cui importanza non solo fu vista assai tardi e con pienezza non prima del 39-40, ma andò moltiplicandosi in misura persino superiore alla contemporanea riduzione dei programmi d'artiglieria. Rappresentasse una delle poche aree non a priori e del tutto coperte da intese private coinvolgenti tutti i potenziali concorrenti, dal che il carattere di violente guerriglie di frontiera assunto dalle liti del 41. Ricordatevi la famosa lettera di Rocca in cui dice Che le cose stessero così è del resto confermato dalla documentazione sul buon accordo che esisteva invece in fatto di artiglieria. Il famoso 15% di anticipo a fondo perduto su future ordinazioni concesso dallo Stato del 39 fu ripartito secondo criteri prestabiliti non solo fra le due industrie meccanici produttrici ovvero sia Ansaldo e Otto le sole aventi diritto per lo Stato ma altri sì tra le sub fornitrici di acciaio e di sbozzati ovvero sia Terni e Siac il tutto con relativa lite e riservato giudizio arbitrale bene stupendo meraviglioso incredibile prima di chiudere tre brevi osservazioni una relativa all'amministrazione militare e le altre due relative all'industria bellica l'integerrima severità del generale dall'olio durante il primo conflitto mondiale non era piaciuta a tutti ricordatevi dall'olio fu l'uomo che con pugno di ferro diresse l'industria bellica italiana dopo Caporetto e in sei mesi quell'uomo quell'infernale attrezzo quell'infernale attrezzo del demonio quel durissimo quel durissimo quel durissimo uomo forgiato in acciaio Terni che poco aveva da invidiare a quello Krupp all'epoca tenne testa agli industriali e gli disse o si fa come dico io o si fa come dico io o si fa come dico io sbattendo i pugni sul tavolo e in qualche caso anche sulla testa degli industriali ma questo è un altro discorso e ripeto l'integerrimo dall'olio non era piaciuto né agli industrie e questo è comprensibile ma nemmeno a qualche settore delle amministrazioni militari chissà come mai ecco chi ha studiato la complessa legislazione sulla riforma della commissione di difesa il regio decreto 11 dell'11 gennaio 23 numero 21 e successive modifiche sull'istituzione del comitato per la mobilitazione civile e sulla nazione in guerra nonché più tardi sull'istituzione del commissariato generale per le fabbricazioni di guerra il COGEFAG non ha potuto fare a meno di rilevare due costanti la prima è che i massimi organismi per il controllo e la coordinazione dell'industria bellica ovvero sia il comitato mobilitazione civile CMC e COGEFAG furono retti ininterrottamente dal generale Alfredo Dall'Olio tra il 23 e il 39 quando andò a riposo alla bella età di 87 anni l'altra è che dalla competenza del commissario per la mobilitazione civile e poi da quella del commissario per le fabbricazioni di guerra furono sempre esclusi i poteri relativi al decisivo argomento delle commesse all'industria ovvero sia CMC e COGEFAG non potevano controllare le commesse affidate all'industria bene queste nonostante la documentata e ferocissima opposizione dell'uomo di ferro dall'olio rimasero sempre nell'orbita esclusiva di ciascuna forza armata separatamente dalle altre e senza ingerenze dell'organismo coordinatore ma allora che cacchio resiste l'organismo coordinatore se ciascuna forza armata fa quello che gli pare ma di tanto si lamenterà anche il successore di Dall'Olio ovvero sia il povero generale fava grossa ve lo ricordate non abbiamo niente niente insomma a un momento unificante per intese private dell'industria bellica fa riscontro la più netta e gelosa separazione tra le forze armate la scelta suicida se ci fate caso quanto all'industria bellica sembra opportuno ricordare intanto una nozione sia pure di comune dominio e cioè che la statizzazione dell'Iri non portò tenetevi forte la statizzazione dell'Iri non portò né ad alcuna politica di pianificazione né ad alcun efficace coordinamento pianificazione coordinamento se vi riguardate quel magnifico libro intitolato La strada per la vittoria di Richard Doveri leggetelo e confrontatelo con queste parole né coordinamento né come dire né coordinamento né pianificazione eppure un imbecille come me sa che solo coordinamento e pianificazione possono garantire una efficienza dell'industria bellica ma che vi devo dire in sostanza si potrebbe dire che delle industrie raggruppate nell'Iri lo Stato aveva assunto improprio cioè aveva reso pubbliche le perdite ma non aveva fatto nient'altro come sempre qua in Italia paga pantalone cioè paghiamo noi coglioni se mi si passa il tempo la prevalente proprietà statale delle azioni di queste società non impediva che ciascuna di esse si muovesse separatamente perseguendo obiettivi propri e senza particolare considerazione della posizione delle altre consorelle Iri dove si poteva osservare un tono di generale bonaccia nei confronti reciproci esso dipendeva da accordi specifici non certo dal fatto che lo Stato fosse l'unico proprietario ma si dai continuiamo a farci la guerra fra di noi infine bisogna dire che con riferimento sia alle zone coperte da intese sia a quelle teatro di scontri di aziende Iri fra loro o con coalizioni di industrie Iri e private come il sodalizio Ansaldo Fiat regnava spesso una comune solidarietà nei confronti dei committenti militari chi ha spiegato con abituale eloquenza la filosofia tra virgolette che ispirava questa solidarietà è ancora una volta l'ingegner Agostino Rocca capo dell'Ansaldo al quale ben volentieri lasceremo l'ultima parola di questo studio ma prima ci dicono Ceve Kurami vorremmo congedarci da questo personaggio che ci ha accompagnato per tante pagine nell'occasione confermiamo che la documentazione esaminata non smentisce il più diffuso giudizio su di lui un uomo in cui l'indiscusso disinteresse personale era pari soltanto all'assoluto bisogno di emergere sopra ogni altro Rocca poteva essere onesto e disinteressato ma in realtà era un uomo ferocemente ambizioso ed altresì uomo che si trovò nella dura condizione di non poter servire con uguale efficacia due patriottismi sì due patriottismi quello verso la nazione e quello aziendale anch'esso di carattere pubblico e nel suo caso disinteressato perché Rocca non era uno stinco di santo ma badava soltanto alla sua azienda badava soltanto all'ansaldo e gli interessi del committente chi se ne frega patriottismo verso la patria sempre dopo il patriottismo aziendale gli avrei fatto ad ansaldo e fiat sarebbe stato necessario un simpatico trattamento Brewster ma purtroppo non ci possiamo neanche pensare 24 maggio 1943 Rocca scrive una riservata personale al dottor Donato Menichella direttore generale dell'Iri che si era risentito per il tono duro di alcune lettere dell'ansaldo scriveva dunque Agostino Rocca ogni ditta ansaldo compresa scrive e riceve giornalmente lettere in cui accusa o è accusata di provocare ritardi e ciascuna ripeto può sempre essere ampiamente documentata e insomma può insomma è sempre documentata ed è come dire a posto così tutti autorità militari comprese si mettono a posto a semplice titolo di esempio vi allego una lettera indirizzata il 20 corrente dalla direzione generale motorizzazione della spa a me pervenuta oggi in coppia con accuse ben più gravi di quelle fatte da me alla terni e alla siac circa i ritardi nelle consegne di fucinati ciò malgrado la spa dimostrerà nel modo più agevole che i ritardi dipendono soltanto dai sub fornitori e questi a loro volta dimostreranno di avere tempestivamente presentato le domande dei materiali non ancora pervenuti così si chiuderà il ciclo e nessuno ne parlerà più voi sapete che io ho detto e scritto più volte in sede ufficiale che i sistemi in vigore sono atti a favorire gli alibi degli inetti l'ingegnere Agostino Rocca il boss del lanza